Allora, il primo obiettivo è stato raggiunto, siamo all'uscita del bosco. Federico, come ti senti? Bene. Ok. Ragazzi, dai, che ci siamo. Tutto ok? Primo traguardo raggiunto. Martina, tutto ok? Si continua a salire in direzione vetta del Monte Poltroni. Passiamo. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci sono anche i falchi, quella è la vetta, siamo quasi in cima. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.